Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. I quattro ragazzi, due abruzzesi e due marchigiani, arrestati in India con l'accusa di aver imbrattato il treno della metro, hanno lasciato il commissariato di Mumbai per essere trasferiti in quello di Ahmedabad. Sono stati spostati, in pratica, in un altro stato. Il trasferimento è stato necessario perché nei prossimi giorni dovranno essere giudicati, anche da questo secondo tribunale, per violazioni di domicilio e danneggiamento. Il 21enne, Daniele Starinieri, di Spoltore, il 24enne, Gianluca Cudini, di Tortoreto, il 29enne, Baldo Sascia, di Monte San Vito, in provincia di Ancona, e il 27enne, Paolo Capecci, di Grotta Mare e Ascoli, sono comparsi in aula venerdì mattina davanti al giudice di Mumbai per il primo procedimento. Gli avvocati in quella sede hanno protocollato l'atto di contestazione del reato. Lunedì mattina toccherà alla difesa presentare istanza di liberazione su cauzione. Quindi il giudice disporrà una nuova udienza per comunicare la sua decisione. Stesso ITER per il procedimento è in corso nell'altro stato. In verità non sono mai finiti in carcere, ma sono rimasti reclusi nelle stanze dei due commissariati, dove vengono assistiti dai funzionari del consolato e difesi da un avvocato del posto. Dalle notizie che arrivano ai genitori stanno bene e ovviamente si spera possano essere liberati quanto prima e possano tornare, se non proprio in Italia, in Inghilterra, dove vivono da anni.